Musica Mercoledì 8 luglio, San Adriano, è il 189esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 176 al termine. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 21.04, la luna si leva a mezzanotte 22 e tramonta alle 13.05. L'imperatore Ladislao d'Ungheria cede a Venezia Zara, Pago, Novograd e i diritti regi su tutta la Dalmazia. La Proloco di Maserata vi invita alla 42esima Fiera del Piave, dal 10 al 14 luglio. Vi aspettiamo a Maserata sul Piave con bella musica, ottimi piatti e vini allo stendeno gastronomico e birra al chiosco. Martedì 14, gran finale con lo spettacolo pirotecnico. Le previsioni per domani, residui a variabilità con spazi di sereno anche ampi che in montagna saranno più presenti al mattino e in pianura dal pomeriggio. In genere alternate a qualche annuvolamento per lo più modesto, sensibile calo dell'umidità e miglioramento della visibilità, precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità al più bassa di locali rovesci temporaleschi nelle primissime ore in pianura. Temperature in calo, salvo risultare stazionari o un leggero aumento riguardo ai valori massimi sulle zone montane.